Grazie al collega Churuflis, ho l'impressione che il caso greco si caratterizzi proprio per questa straordinaria tensione tra esigenze di semplificazione che vengono da lontano e taglio delle risorse che segue alla crisi del 2008, la drammaticità di questa tensione è stata ed è sotto gli occhi di tutta l'opinione pubblica europea. Grazie.